Siamo accorti che, avendo pregiudizio sui settori che potranno essere infiltrati, che tipicamente potrebbe essere il movimento terro, di cui tanto si è parlato, piuttosto che nella ristorazione, piuttosto che nel settore immobiliare, ci siamo accorti invece che le infiltrazioni possono essere un po' dappertutto, in particolare in questo caso nel settore meccanico. È un argomento, quello della legalità sul nostro territorio, importante. È uno spazio molto vasto che va dalla contraffazione all'acusivismo. Negli ultimi periodi c'è stata, come dire, una particolare attenzione su quella che era l'infiltrazione mafiosa, malavitosa nel nostro territorio. È iniziato, diciamo, subito, prima, con il settore edile, forse quello più facile per rifiltrarsi. Poi si sta allargando su questi altri settori. Lo studio che collaborerà all'università su queste attività ha come obiettivo di informare e far capire alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, ai nostri artigiani la problematica che questo creano sul tessuto del nostro territorio. Noi come associazione abbiamo aderito molto volentieri a questo progetto, non ci vogliamo sostituire a nessuno, alle forze dell'ordine in particolar modo, ma crediamo che attraverso questo lavoro dell'università si possa avere uno strumento tale che possa sensibilizzare le nostre piccole aziende che non hanno strumenti diversi per andare in un qualche modo a capire preventivamente quando si trovano in una situazione di questo tipo. Inconsapevolmente magari poi si trovano coinvolti, coinvolte in affare appunto di malaffare come quelli che erano studiati appunto dall'università. Farlo insieme alle altre due associazioni come la nostra che rappresentano la piccola impresa che hanno la stessa sensibilità e sicuramente dà molta forza a tutte le imprenditorie e anche con le imprenditorie della nostra provincia. Allora io vorrei ringraziare innanzitutto per questo stimolo che è arrivato alla nostra università attraverso un'azione congiunta di tre importanti associazioni imprenditoriali che si mette di fronte a una tematica che come università stiamo affrontando da tempo in tutti i risvolti, quindi si colloca pienamente nelle linee di azione che come tenere ci siamo dati perché la cultura della legalità, la comprensione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata, quindi conoscere per capire e quindi per contrastare, è uno degli assi importanti delle nostre azioni universitari in campo educativo. In questo senso la proposta che ci è stata formulata ci ha visti partecipi fino all'inizio e devo ringraziare la professoressa Monica Focconi perché lei in questi anni come delegata all'anticorruzione e trasparenza del nostro Ateneo ha cercato in modo molto significativo di portare avanti sia la diffusione della conoscenza sia l'attività di coinvolgimento degli studenti. L'auspicio che io ripongo in questa azione è proprio quello di poter identificare anche con la collaborazione fondamentale del nostro Tribunale, poter identificare quali sono dei segnali, quali sono dei sintomi, quali sono delle pratiche che possano permettere alle piccole e medie imprese, ma più in generale a tutta la nostra comunità, capire quali sono le lampadine che devono accendersi e quindi di conseguenza anche le considerazioni successive che devono essere fatte per capire come possiamo contrastare fenomeni di criminalità, fenomeni mafiosi che si infiltrano poi nell'economia quotidiana delle nostre imprese. È molto bello vedere che tre associazioni insieme, su un punto che fa convertere il loro interesse, si mettono a lavorare con un fine comune e questo per il motivo di orgoglio oltre che di responsabilità. Ringrazio veramente le imprese e le associazioni che le rappresentano per questa opportunità, per questa volontà di agire insieme. L'Università di Parma per la prima volta viene inserita nel circuito virtuoso di attuazione del testo unico regionale sulla legalità che ha come obiettivo quello di attuare forme di prevenzione sulla permeabilità mafiosa dell'attività imprenditoriale dei territori. Per la prima volta io ho fatto questo progetto osservatorio della legalità che è stato apprezzato, ho avuto anche un finanziamento regionale. Credo che sia motivo di orgoglio per l'Università di essere inserita oltre che per la Regione di essere inserita in questo circuito virtuoso e quindi questa azione è la prima volta che concretizza una sinergia di terza missione con le associazioni professionali di categoria presenti sul territorio. Grazie davvero anche alla professoressa Cocconi per averci coinvolto perché anche il lato penso multidisciplinare con cui affrontiamo questo progetto penso sia importante perché ci sono diverse anime che compongono il nostro Ateneo, chi approccia più il lato micro aziendale come noi, il lato giuridico e quindi penso che questa sia una sinergia particolarmente interessante e importante da sviluppare e come diceva il Magnifico Rettore in precedenza l'obiettivo è proprio quello di cercare da un punto di vista anche economico aziendale di comprendere quelli che sono i fenomeni e tipizzarli, sistematizzarli affinché questo possa essere utile dal punto di vista della ricerca ma anche e penso che sia un lato importante come ha già evidenziato il Magnifico Rettore di terza missione e anche dare un ritorno alla collettività per tutto quello che si può fare per evitare certi fenomeni che noi stavamo studiando a livello aziendale già in ambito di politica anticorruzione messa in atto oggi dalle imprese anche nell'ambito del decreto legislativo 231 del 2001 e quindi ci permette anche a noi di soddisfare questa fame di conoscenze, di aiuto anche al mondo concreto, reale delle imprese cercando davvero di dare il nostro apporto anche in tali ambito